Mario Kart è noioso, bestiacce, orca troia, bentornati, buona pasquetta, come state, tutto bene? Oggi, oggi è il giorno in cui non vi dovreste fidare di niente e di nessuno, l'1 aprile, il momento in cui il pesce sguazza fuori dall'acqua, perché arriva la primavera, ma è un pesce moribondo, un pesce ancora stanco, un salmone che risale la corrente e in questo periodo dove la Pasqua viene, anche questa, diciamo, festa cristiana viene contaminata da ciò che è pagano, come ad esempio le uova e il suo meraviglioso coniglio che le cova, è tutto un puttanaio, ragazzi. Ci rendiamo conto di quanto il nostro mondo sia strano, sia confuso e sia orrendo. Stasera, bestiacce, incredibile ma vero, Horror Night, ma non è un pesce d'aprile, quindi facciamo veramente un Horror Night e giochiamo a Lazzaretto, il gioco che tanto ci era piaciuto dove noi e le barche e i mostri. Quindi, oggi Twitch vuole farmi un pesce d'aprile, no, per favore, e anche un'altra cosa, anche un altro no, non mi chiamo Andrea. Quindi smettetela, grazie. Oggi ragazzi ci sono notizie da tutto il mondo veramente entusiasmanti, perché come si sa il pesce d'aprile porta delle notizie veramente ilare e ormai il pesce d'aprile non ha più senso, secondo me. Non ha più senso perché tutti se lo aspettano. Il vero pesce d'aprile sarebbe da fare a marzo, a caso. Che dici? Non ha più senso, non ha più senso. Il vero pesce d'aprile sarebbe da fare, che ne so, dicembre. No, no, sempre chiamarlo aprile, pesce d'aprile, ma farlo in un altro periodo. È lì che non te l'aspetti. Comunque detto ciò, ragazzi, sono sincero, Mario Kart è noioso. Dopo due tre piste ti sei rotti i coglioni, quindi non capisco il senso di continuare a giocarlo. Mettetelo giù e guardatela live, grazie. Ciao Dino, sei cool? No, non sono abbastanza cool, perché qua fa un caldo porco, però ci sta, ci sta. Dino, ma quando? Non ho letto. Ma quando giocherai a quel gioco dello zoo, non zoonomali, quello che è uscito da poco, non è uscito, quindi non lo gioco. Zochosis esce ed uscirà non so quando, però dovrebbe uscire teoricamente in questo periodo. Appena uscirà, noi lo portiamo al day one. Tra l'altro, i simpaticoni di Subliminal, altro gioco che dovevamo portare, hanno fatto un trailer da pesce d'aprile, facendo vedere meccaniche e chiedendo se vogliono il multiplayer nel gioco a noi, poveri stolti, e io dunque ho smesso di seguire la loro pagina e prometto che non giocherò a Subliminal. Ho deciso esattamente oggi, perché si mi piglia anche per il culo, diciamo che adesso anche basta. Dino, buona fortuna con il tuo progetto. A proposito del progetto, ragazzi, sabato siamo andati a fare la nostra esplorazione, la nostra esplorazione, il nostro progetto diciamo Urbex. I Ghost Fuckers si sono riuniti per fare, per scoprire, per trovare l'occulto là dove si erge, là dove si nasconde più che altro e abbiamo, è stato bellissimo. Io Andrea e Daxin ci siamo infilati in questo laboratorio segreto e quindi preparatevi perché non credo questa settimana, ma la prossima dovrebbe uscire la puntatone incredibile, puntatone Pasqualone a sto punto in ritardo, ma sti cazzi, sulla prima puntata dei Ghost Fuckers. Quindi preparatevi bestiace, avrete anche ovviamente delle anticipazioni, dei trailer e contenuti di ogni sorta, solo sul vostro digitale terrestre, on demand. Va bene? Dino, mi porterai Braulo? Spero di sì. No, non lo porto. Finalmente ti vedo in live, di solito ero solo su YouTube. Oh, eccoci qua, oh, finalmente, eccovi, eccovi, vi voglio in live, bestiace, dovete venire qua, cazzarola. Detto ciò, ragazzi, partiamo con il Tigidino, poi vi saluto e dopo vi chiedo come è andata questa Pasqua, perché io sono stato male. Uno, due, tre, Tigidino! La realtà virtuale anche per la Nintendo. Questo trailer è un pesce d'aprile. Guardate che roba. Copyright, ovviamente. Wow. Lo volete più piccolo, lo schermo? Sentite il ritmo. Mamma mia, sapete cosa che mi fa incazzare? Che effettivamente questo trailer è geniale e sarebbe bello se la Nintendo si mettesse sotto a fare qualcosa inerente alla realtà virtuale. Avrebbe senso, sarebbe carino. Però loro sono, come dire, sono il fastidio. Luigi's Mansion? Ho comprato la Switch solo per giocare a Zelda, tutto il resto lo trovo veramente superfluo. Direi di buttarci dunque su un'altra notizia incredibile, ossia Dark Side, anzi Dark Side trailer, il gioco sulle anatre, l'attuato oscuro delle anatre. Guardate questo trailer. Questa roba mi angoscia. Non vi faccio vedere, non vi faccio, metto la musica perché non ha senso, però credo sia un pesce d'aprile anche questo, dato che ancora nessun commento compare qui. Avvia la conversazione. A questo punto scrivo eccoci. Vediamo un po'. Vediamo se poi se parte la conversazione. Ho rotto IGN e sono felice di questo. IGN America non funzionerà, segnalo un problema, no vabbè. IGN America non funzionerà più, però comunque controlla. Guardate che meraviglia questo incredibile trailer dove un'anatre imbraccia un fucile, poi imbraccia un martello e costruisce il suo meraviglioso impero comunista. Guardate che roba. Ovviamente un survival con diverse meccaniche, semplicemente è dust, ma al posto dei personaggi hanno messo le anatre e puoi volare. Guardate che roba. Puoi sparare con l'arco mentre voli. Ora voi vi immaginerete chissà quali futuristiche animazioni. No, semplicemente il fucile compare a lato dell'anatra e spari o quando ha in mano qualcosa non si vede l'anatra che la impugna ma il fucile che compare a fianco a te perché è un gioco ovviamente dalla natura trash. Si capisce, si intuisce dal fatto che tu sei una fottuta anatra. Detto ciò, incredibile altra notizia dove ci fanno vedere tutti i pesce di aprile fatti e nel mondo videoludico come i più belli, i più belli del 2024. Quindi abbiamo ovviamente Champions Torment con Pokémon Sleep. Bene, il 2024, un torneo annunciato da Nintendo, ma la smetti, fai i giochi e basta. Poi abbiamo l'Octulu Razer che sarebbe sostanzialmente, con l'Octulu non c'entra un cazzo più che altro, sembra la sedia da gaming del dottor Octavio. Tra l'altro ho visto il trailer, è geniale. Poi abbiamo la Capcom che sta, che, we're starting selling helicopters. Ah, perfetto, la Capcom che inizia a vendere degli elicotteri sarebbe secondo me qualcosa di abbastanza normale, considerando l'andazzo degli ultimi giochi. Vero Dragon's Dogma? E poi abbiamo Sonic Man from Sonic 06 to become a brand ambassador, non mi interessa. Army Man Toys in Arma, ma sono i pupazzi. Sono i soldatini di Toy Story. Non deve essere un pesce d'aprile, prendo molto su serio Toy Story io. Non dovete farmi questo. No, no. Poi, Dead by Day, let's step on me mode. E queste erano le notizie, ragazzi, del TGD. Notizie da tutto il mondo, ovviamente un mondo che è un po' un fulso, un po' un aprile, un po'. Mi dispiace, ragazzi, pensavo ci fosse qualcosa di più interessante. Sigla. Allora, com'è andata Pasqua, ragazzi? Cosa avete fatto? Ah sì? Davvero? Wow! Quindi dici che l'80% del tempo che hai passato con i parenti l'hai passato sul cesso, chiuso in bagno? È giusto così, direi. È giusto così. Niente, mi fa molto piacere. Ho cacato uova, bene, poi se ti chiamano la gallina non offenderti. Non mi è mai piaciuto i tuoi story. Bannate subito, non me ne frega un cazzo. Bannate chi? Stefano Baldi, fuori dai coglioni, via, bannate. Andiamo avanti. Ho mangiato la torta. La torta? Di che? La torta di Pasqua. Non so che cazzo sia. Ho solo tre parenti? Ma meno male. Ah no, aspetta. Io ne ho solo tre di parenti, quindi tranquilla, perfetto. No, ma ripeto, meno male. Pasqualina. La colomba... La colomba... Allora, chi preferisce la colomba e chi preferisce le uova? Sono curioso. Sono veramente curioso di sapere cosa... È un po' come il pandoro o panettone? Stessa roba, si è sempre lì. Colomba. Chi cazzo dice colomba, ragazzi? Dai, ma porca troio, su, per favore, non iniziamo. Ma non fate, ma non fate quel tipo di persona, su. Ma non fate quel tipo di persona. Ai miei tempi mangiavamo pane e marmellata tutto il giorno. Ecco, scusatemi, ho digerito la marmellata. La colomba fa cagare. Dipende da che colomba è. L'uovo, cazzo. L'uovo, ragazzi, contiene sostanzialmente tutto quello che potremmo aspettarci dalla vita, ossia il cioccolato. Tu dici, che figata, un intero alimento fatto di cioccolato. Lo assaggi e fa cagare. Poi dici, tranquilli, all'interno c'è la sorpresa, perché dopo il pasto addirittura una sorpresa. Apri l'uovo e la sorpresa è una merda. Quindi è proprio un'aspettativa rovinata, l'uovo di cioccolato. Direi che rappresenta al 100% quello che è il concetto della vita. Un brodo di colomba, buono. Questa cucina francese insieme al piccione deve essere rinomato. Il saluto corrutto, non l'ho ancora fatto. Dino una volta ho vomitato. Io ho rischiato stanotte. Ho rischiato stanotte. Non so per quale cazzo di motivo. Ho avuto un'indigestione devastante. Non posso più mangiare quello che voglio. E quindi sono stato malissimo stanotte. Ma mi sono svegliato, per fortuna. Forse è inutile dirlo. Mi sono svegliato, altrimenti non saremo qui. Era sottinteso. E poi è successo. E poi è successo in bagno qualcosa. Non vi dico che cosa. Vi dico solo che non corrisponde alla numero 1, non corrisponde alla numero 2, non corrisponde neanche alla numero 3, che voi sappiate essere, ma bensì alla numero 5. Justo per farvi capire. Piragna è uscito di testa e ha regalato 10 abbonamenti a voi. Quindi voi 10 sapete chi ringraziare. Ragazzuoli, io direi di salutarvi e iniziare a giocare. Che dite? Così facciamo questa bella Horror Night e poi, tra l'altro, attenzione però, fermi. Questa settimana ritorna la classica programmazione, quella canonica, con le tre Horror Night settimanali e poi in mezzo degli altri giochi. Molto probabilmente inizieremo un nuovo gioco della Cilla's Art che si chiama non mi ricordo, sei su un treno, devi vedere le anomalie. Una roba abbastanza carina, sperando che possa essere di nostro intrattenimento e gradimento. E poi continueremo ovviamente Minecraft Horror, che è una serata che ci sta piacendo molto. Adesso devo darmi anche però degli obiettivi in questo Minecraft Horror, perché Minecraft è questo gioco qua. Sì, è vero che è il videogioco che dà spazio alla creatività, ma dopo un po' ti rompi le balle. Quindi se non hai un obiettivo di vita, non sai un po' che cosa fartene di questa vita. Quindi cerchi di iniziare a scalare il monte più alto fatto a cubetti e poi ti ci getti giù, sperando di colpire uno di questi cubetti però di spigolo e di chiudere così gli occhi di Steve per sempre, sostanzialmente. Ma perché scatti? Perché hai una connessione di me. Dunque, ciò ragazzi, direi di passare. Quindi ho intenzione di portare Shinkazen Zero. Ti sei informato? Esatto. Shinkazen. Sì, sì, porteremo quello che è il gioco appena uscito della Chilas Art. Allora, io in realtà ho diversi giochi della Chilas, ma mercoledì facciamo la serata Chilas Art. Ho diversi giochi della Chilas, diciamo, in librerie. A dove cazzo hai i giochi della... No, visualizza. Dove è la lista desideri? Non vi è più. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma perché non funziona Steam stasera? Eccolo qua. Chiedo ovviamente perdono, però sono in digestione da cinque giorni. Shinkazen Zero, che è questo qua, gioco che è appena uscito della Chilas. Poi abbiamo Sleepy Short Adventure, che in realtà è un gioco che non è horror, però l'avevo visto così a caso, mi piaceva. Carino in pixel art. Sempre della Chilas abbiamo Sympathizing Property. Panicor, gioco cooperativo che ci avete consigliato, ma indovinate un po'. Non è ancora uscito. Classico. Silence Channel 2, che è un altro titolo che ci avete consigliato, uscito il 7 dicembre 2023, e poi Anemojopolis, che è quel gioco sulle backrooms che ci interessava, che volevamo provare e che probabilmente porteremo questa settimana, con la speranza che arrivi il più possibile, prima possibile il 18 aprile, per l'uscita di sto cazzo di No Rest for the Weekend, della quale faremo sicuramente una serie dedicata a questo gioco GDR, che ha questo stile artistico particolare, come se fosse stato dipinto a mano da un bambino asiatico. Quindi ragazzi, io direi di buttarci, vi saluto e giochiamo a Dragon's Dogma 2. No, sto scherzando. Non ho mai chiesto Refound così velocemente in un videogioco come con Dragon's Dogma. È allucinato. Lazare, eccoci qua. Allora, fermi, fermi. Pirata Nudo, Sara, poi abbiamo Metal Wing, Caffè Caldo, Pengrè, incredibile, Silesia, Stefano, Pioggia, Aria Fritta, Mattex Miglia, grazie mille per stia, anche a N900, poi chi altro? XV, Care03, poi abbiamo Nonno Tattico, Giugulare, Incro, Stefano, Yashi, Yashi Gay, poi abbiamo Son Jostar, The Emperors of the Sea. Salute! La Valle a Starnutito, Valerio, poi chi abbiamo? Chi abbiamo? Luna Dislessica, bene, Imperius, Cicara, Silver Tequila, wow, Helsinel e poi chi altro ragazzi? Chi altro? Dai, altri cinque e poi l'ultimo, Asbura, allucinante, salve, Ala, Zonari Allarm 7483, che è lo stesso identico nome del sistema di sicurezza che avevo io tempo fa, ma che fallì perché scoprì non fare video ma solo foto, con questa fotocellula che captava i movimenti, quindi alle tre di notte se ti muovi per casa iniziano i paparazzi a farti i flash, è stata un'avventura abbastanza particolare ragazzi, non vi dico tutte le foto scattate che sono andate poi alla polizia, ovviamente alle forze dell'ordine e con me con l'uccello in mano alle tre di notte. Poi abbiamo Brian, Horizon, Razzu, Yale, Fanel, Sere, Upurku, Upurku, Upurku Diu, anche se sappiamo benissimo che cosa intendeva dire, Aflix, Johnny Slosmilzo e Dani è l'ultimo, ma non l'ultimo, chi è l'ultimo degli ultimi, bestiaccia, dai? Chi è l'ultimo degli ultimi? Chi è l'ultimo degli ultimi? Chi è che non sa di essere stato adottato? No, sto scherzando. Chi è che non sa che suo padre in realtà non è suo padre biologico? Ah, mamma, chi è? Chi è? Chi è? Moloch, 00. Mi dispiace, bestiaccia. Benvenuto, benvenuto in questa nuova live, benvenuto nella casa del Signore che ovviamente non è mia, ma occupo con la forza stavolta però, basta, basta, pace, diciamo che la risoluzione assoluta è quella, la forza, allora fatemi partire la live, fatemi partire la live, perfetto, fatemi studiare un dizionario, vai in live, ok, ci siamo, vediamo se parte, ok, gioca e giochiamo a sto Lazaret che sinceramente io spero di ci regali delle emozioni un pochino più forti rispetto a quello dell'altra volta, cioè ci siamo cacati, però cacati in parte. Eccoci, ditemi com'è l'audio per fav... Dov'è la mia tele... Dove cazzo è la telecamera? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Dov'è la telecamera? Non vedo la... Ma perché? Ma perché funziona così stavolta? Aspettate, aspettate, aspettate. Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua, ok? O l'è? Eccoci, eccoci, eccoci. Ah, ovviamente un ringraziamento speciale al nostro sponsor che anche in Pasqua rompe i coglioni, Instant Gaming, bestiacce, incredibile, ma vero, se vi va di ottenere dei giochi a 90% di sconto indipendenti o triplati per il nuovo Dragon's Dogma, 90% di sconto lo trovate qui su Instant Gaming, utilizzate il nostro link, altrimenti avete la mamma che non pulisce la vostra mocha per il caffè, mi raccomando, fatelo, utilizzate il nostro link e potete ottenere 90% di sconti su tutti i giochi che vi interessano. Lo ad game. Cargo hold. Ah, così. Ah, mi ricordo. Ma il nostro obiettivo? Flashlight, security room key. Aspetta, bring the shipping manifest back to the cargo hold. Non mi ricordo. Qui dobbiamo trovare... The elevator fuse is missing. L'ascensore fusa è in missione. Perfetto. Doppio io ragazzi, cioè traduco io ragazzi per voi. The door won't open while they... Sapete che non vi temo, brutti bastardi? Frase tra l'altro da evitare di dire la domenica in chiesa. Come è capitato a me. Ah già, col tasto F abbiamo la torcia, mi ricordo, mi ricordo. Ma abbiamo anche un inventario? No. Buono. Non mi ricordo nulla. Sto giocando troppi giochi horror insieme. Ma da qua siamo arrivati? Oddio, non lo so, eh. Cosa dobbiamo fare ragazzi? Voi vi ricordate? Che gioco è? Si chiama Lazarus. Un gioco dove dobbiamo sostanzialmente recuperare le... Perché si sono persi e andiamo in questa nave cargo e li troviamo morti. Ah no, da qua siamo arrivati. Esatto. Lì c'era il tizio che dovevamo liberare. Buono. Quindi devo scendere. Tra l'altro qua si poteva vedere dall'esterno. Esatto. Niente, devo scendere e passare per di là. Vado, 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 vado. Avevi preso una chiave, mi pare. Non mi ricordo ragazzi, perdonatemi, ma veramente... È da un po' che non lo giochiamo, quindi non... Non ho memoria. Mi devo insinuare? Mi insinua. Ah, col tasto F. No, col tasto... Con quale tasto? E. Tasto E. Però l'abbiamo già fatta, sta stranzati, ma lo ricordo. Attenzione, jumpscare? Jumpscareino? Eccoci qua. Ho vinto. Ma da qua siamo arrivati, no? Quella abbiamo già fatta, sta roba. No, fermi. Da qua siamo arrivati. Vedi che mi ricordavo. Che c'era quell'agglomerato di corpi morti. Ovviamente si intende morti goliardici, eh? Sia chiaro, Twitch. Contestualizza. Avevi preso un soffio al cuore, mi pare. Ah, sì, sì, sì. Beh, quello... Quello è normale ormai. Tra l'altro, ragazzi, ho scoperto che non c'è esercizio cardiaco migliore che la paura. Allora, a sto punto, ragazzi, mi vien da pensare che l'unica nostra direzione sia... Andar per di qua. Salve. Salve. Ok, lo sapevo. Si muoveva, si muoveva. Tranquilli, tranquilli. Ho sentito dei suoni ma non ero sicuro. E uno è andato. Ma basta, ancora! Ma è sempre lui? E lo sapevo, no, vabbè, ragazzi, scusatemi, scusatemi, lo voglio levare da qua, semplicemente lo voglio levare da qua. Allora, ma è un vizio, ragazzi, è un vizio. Deve essere... Ah, cazzo, sto perdendo vita? Incredibile. Scusatemi. Mi devo togliere perché, ecco... Ho un caldo abominevole. Vuole solo un abbraccio. Ma chi lo sa? Non c'è più. Vedete che sparisce? Per questo mi stavo chiedendo se fosse lui. Bom. Bom. Tra l'altro io continuo a vedere questa leva rossa e penso che possa servire a qualcosa. E invece... Buonas? Chi è? Salve. No, e non iniziamo. Ok. Non mi fa nulla. Non mi fa nulla. Non mi fa nulla. Qua mi ricordo che c'era un tizio che si era mosso. Ma stiamo tornando indietro? Hide. Questo gioco non ha senso. Leave. Eccoci qua. Questo gioco non ha più senso per me. Io mi ricordo che qua ci siamo già stati. Boh. Avevamo tolto il gas da qui. Non va. La porta non va. Aspetta, forse... Col tasto E di porta. Cargo hold. E ma è tutto... Qua ci aveva aggredito il ciula. Il ciula, ragazzi, è una creatura leggendaria. Al pari del ciupacapra. Che vuol dire ciuccia capre. Una creatura mitologica non dissimile da un vampiro. È un'unione tra un cane e un pipistrello della frutta che creano questa sorta di genocidio pecoraro. Creature che andavano di moda. Allora, ogni anno all'incirca, ogni due o tre anni, c'è un cambio, definiamolo, generazionale horror. E c'è una nuova creatura mitologica che fa paura. In questo periodo c'è lo shapeshifter. Lo shapeshifter. Vabbè, colui che cambia forma. Però ai tempi di YouTube 2014 c'era il famigeroso Chupacabra, mi chiamano, ricordo. Dieci anni fa c'era lo slender. No, vedi, ti stai sbagliando enormemente. Io parlo di creature vere. Creature vere. Non di finzione. Ecco, allora io vado, eh. Eccoci qua. Il wendingo pure. Non ricordo. Qua non c'è nulla. Aia! Un passo alla volta, ragazzi. E via così. Sento dei suoni. Ah! Questa meccanica di gioco non la sapevo. Quindi i suoni che sentiamo sono le catene... Adesso mi devi spiegare dal punto di vista elettromagnetico come cazzo funziona. C'è un ingegnere tra voi in chat? Allora qua abbiamo un cosiddetto stronzo. Dobbiamo levarlo dalla porta. Il modo migliore è andargli contro, perché poi lui sparirà. Guarda. Piano! No? No. No? È in punizione. Tutto bene? In attesa del bagno? Questo sono io ogni mattina. All'incirca. Nudo. Perfetto, ovviamente. Spostalo di peso. Non posso, perché nei videogiochi, ragazzi, si è come delle... Sostanzialmente delle... Delle creature senza ambizione nella vita. Non si ha l'istinto. Si è delle mosche intrappolate dentro... Che sbatte contro il vetro di una finestra. No, non c'è. Non c'è. Non c'è un vero e proprio... Diciamo... Prompt. Si rimane bolcati lì. Ma io cosa devo fare in sto gioco, ragazzi? Scusatemi. Questo è l'anno degli Skinwalker. E siamo lì. Ma che devo fare? Perdonatemi. Se non erro, adesso... Come creatura va lo Skinwalker. Ok, sì, ma... Stiamo parlando di altro. Cosa devo fare qua, ragazzi? Cioè, qua ci siamo già stati. Io sta roba l'ho già letta. Sì, l'intruder di... Allora, l'obiettivo è... Bring the Shipping Manifest back to the Cargo Hold. E qual è lo Shipping Manifest? Non... Non... Io non... Non lo so. Devi salire, Dino. E allora vado. E allora salgo. Quindi devo rifarmi sta strada da qui? Ti vedo. No. E... Ce l'hai! Lo sapevo! Non lo sapevo. Che puoi beccarsi un pugno di corallo in faccia. Deve far male. E ragazzi, salviamo ancora Cargo Hold. Serve un fusibile per aprir quella porta. Ma non so dove cazzo trovarlo, sto fusibile. C'è il tizio nel container. Eh, ma non so come aprirgli la porta. Scusate, guardate. Allora, aspetta un attimo. Perché sennò qua... Mi ricordo anch'io che c'era un tizio nella porta. Chi dei due è il simpatico qua? Forse devo salire di qua. Ma qua ci siamo già stati, mi sa. E come faccio a passare da lì? C'è lo stronzo. Qua io ho parlato con un tizio. Ah. Vedi, sì, è lui. Però il tizio... Però il tizio non... Non mi... Non potevo aprirgli la porta. Mi diceva liberami, per favore. Liberami. E poi non... È bloccata. C'è, capisci? Security. Ah. Questa è nuova. Salve. Ma tu stai lì. Sei realtà o finzione? È un turno all'otto, ragazzi. 50-50. Ho sputato sul monitor. Ah, è sparito. Buono. All'inizio, hai visto? Che c'è qua? C'è qualcosa di vero nel cargo hold. Come stavo inspeccando la macchina, ho sentito un ritmo diverso, un sonno che viene da uno dei contenuti. Ho cercato di investigare, ma il cargo inspeccatore mi ha detto che si è guardato. I even tried to hear the sound since... Vabbè, c'è il tizio chiuso dentro la roba. L'abbiamo già letta, ce lo sapevamo. Ah, Shipping Manifest. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ma porta al... The cargo hold. E dove cazzo è il cargo hold? Ma poi tra l'altro qua. Non c'era qualcosa... Che si affacciava alla finestra, ho sbaglio? Non vedo. Avevo visto che c'era una specie di... Una sorta di tubo nero che usciva da... Ehi, là! Ok, storage. Storage. Ah, qua ci siamo già stati. Sì, sì, sì. Da qua siamo arrivati. Poi scendavamo giù di qua. Qui era chiuso. È esatto. Buono, dai. Stiamo facendo... Un po' di... Di passi avanti. Ora, devo portarlo al cargo hold. Cargo hold 1. Che sia lui? Ehi, là! Vado a salvare, va. De... Oh, le... Ci sono queste meravigliose falene che si girano attorno alla luce, che mi fanno... Mi ricordano i cari bei periodi estivi, dove ti entravano quei passe rotti con l'addome grosso così, no? Avete presente? Mi è mai capitato? Ogni tanto entrano quelle falene in casa, che fanno contro il muro, iniziano a scagazzare bianco, e tu dici, che succede? E invece sono uova. Cioè, dopo scopri su internet che sono uova, e quindi il terrore che poi si schiudono all'interno dei vostri cuscini la notte è ancora peggio. Però chi se ne frega, chi se ne frega. Tra l'altro poi dopo che ne parli e dopo che ci pensi, vedi sui social che c'è qualcuno che effettivamente munge le falene e beve il latte di falena. E dici, ma com'è possibile? E poi scopri che c'è tutta una scienza dietro e che gli asiatici sono ancora più strani. Eccoci qua, cosa devo fare qui io? Come ho fatto a salire qua sopra? È una pessima idea, è una pessima idea. Che sto facendo? Dove sto andando? Non lo so. Santo Dio le falene. Quelli che odio sono gli scarafaggi. Perché? Che t'han fatto? Non ha senso. Hai fatto la cosa dei segni l'ultima volta. Eh? Che vuol dire? Ancora? Oii! Ah, ecco, la cosa dei segni intendi questo. Sì, no, ma l'abbiamo già fatta. Ma quindi è scriptato? Cioè, quando scendo da qui sento quel suono lì, che non ha veramente senso. Boh, vabbè. Allora, siamo al cargo hold. Ma io che ci devo fare? Sì? Che cazzo? Ragazzi, vi giuro, non ho la minima idea di cosa... Pensavo di aver visto una faccia. Non ho la minima idea di cosa io debba fare con questi cazzo di shipping manifest. Back to the cargo hold. E siamo al cargo hold. Che cazzo ci devo fare? Cargo hold 1. Questo è chiuso. Li devi dare al tizio. Eh, ma come li do al tizio se è chiuso qua dentro? È chiuso dentro sto container. Io, tra l'altro... Non mi ricordo neanche come cazzo... Quali dei container fu... Penso questo. Però non mi parla più. Bastardo, si è offeso. Ah! Aspetta un attimo. Ok, questa è nuova. Possibile? Perfetto. Ah! Non ci provare. I feel like I've been down here forever. Non mi interessa. Della tua triste storia. Mi aggredisce. Mi aggredisce tra tre... Due... Cattroia! E lo sapevo! Lo sapevo. Lo sapevo e mi sono spaventato lo stesso. È inutile che vi burlate di me. Avete visto tutta la cena? Eh? Guardali. Si divertono gli amici qua. Allora, quindi abbiamo il fusibile. Devo andare di... Devo andare di qua. Vado. Manca qualcuno qui. Ok. Salviamo, per l'amore del cielo. E procediamo per di qua. Ma sono due. Permesso? Ok. Bom. È fatta, ragazzi. Abbiamo vinto. Almeno. Ho vinto. Da dove prende la corrente? Il ventilatore, Dino? Non ne ho idea. Non penso sia... È bisogno un attimino avere una... C'è quella sospensione di incredibilità, ragazzi. Alla fin fine, voglio dire, è un gioco horror. Non è che deve essere spiegato tutto. Evidentemente avevo una piccola dinamo. Oppure un qualcosa a pedali. Che ne so io. Tutto molto pulito qui, vedo. E abbiamo un altro salvataggio. Ottimo. Ah. L'affascinante mondo delle navi mercantili. Pensate. Un operaio medio qua guadagna dai 5.000 dollari in su. Sì? Ok. Quello è strano. Ehm... No. 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 Ah! Ah! Uh! Ok. Ok. Che è sto suono? Come le apro io le porte? We've been trying to get the engineers back to the pawn running. They were not successful. We've... Chissenefrae. No, ricominciamo. Si parte con un po' di stalkeraggio? Che è molto... Ha avuto più paura lui di me. Fidatevi. Fidatevi. Vabbè, ma io come faccio a passare? Mi devo far per forza... Attaccami! No. Ah. Lo so che lo fai. Lo so che lo fai. Tu e le tue dannate cozze. E cos'è? Vabbè. Non c'è mai stata un'animazione per prendere nessun oggetto. Sia. Non mi piaci. È una pessima idea. A piece is missing. La pace manca. Che devo fare? Ok, devo andare a ricreare il circuito. È come... Ma... Ok. Mi manca un pe... Cargo hold door control. Calmi. Olè. 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 Lo sto infastidendo per cercare di stimolare una reazione, ma non vedo... A posto. A posto. Boni. È partita la musica inquietante. Eccolo lì, il richiamo. Il richiamo. Quindi, mo' che devo fare? Find the replacement part of the water pump. Eh, rec. Incredibile che un gioco di merda come quello ha ispirato uno dei meme più ilary del canale. Ma mi sento un maratoneta. Va che meraviglia. Adesso qualcuno di loro mi porge anche una bottiglietta d'acqua. Oligo minerale. Ehi. Minchia. Insette. Insette. E chi avete da guardare? Piano. È chiusa. Perfetto. Madonna santa. Ok, sento delle catene. Ma non credo che ci passi qua tutto lo scafandro. Vi ricordo che c'è un mostro gigante in questo gioco. Che è una sorta di... Pestione scafandrato. Scafandrato. E no, però. Non siamo soli. Ma il gioco ci spinge ad andare di là. Incredibile quanto io non voglia farlo. Cristo santo. Quando è che uno di questi stronzi mi afferra per l'avambraccio? È una pessima idea. Io vado di qua. Go fuck yourself. Uuuh! Calmi. 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 Sono leggermente teso. The dawn is power. Che è sto suono? Uh. Sembra figo di là. Cargo hold. E qua ritorniamo indietro. Ma. Eh, ma quanti cazzo di bivi però, ragazzi. Io qua mi perdo. Allora, al momento in cui il mostro ci inseguirà, dobbiamo ricordarci di non girare. Ah. 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 Ehi là. Sto hash. C'è ancora qui. Senti, dai, lo sappiamo come va a finire. Perciò, facciamolo. Visto? Visto. L'ho saputo. Ma era ovvio. Era ovvio. Bravo. Fatti un giro e non rompere i coglioni. A posto. Basta lasciarli sfogare, ragazzi. Basta lasciarli sfogare. Unlock it. Eee. Boh. Abbiamo finito il gioco, ragazzi. Ma io non avevo mica una chiave apposita. Ah. Eeeh. Chiudi. Di grazia. Writing tile. Aha. Abbiamo trovato il pezzettino che ci serve. Buono. Vuoi dire che uno di quei manichini si è vestito così? Cioè, ha scelto di vestirsi così? In arancione? Credibile come siano molto simili le tute da lavoratore con le tute da carcerato. Ahahah. Filosofia. Eeeh. Io proseguo. E' qualcosa... Qualcosa mi attanaglia? No. Ma perché metteresti... Vi rendete conto che non sta succedendo niente in sto gioco? 3, 2, 1, vai. Ok. Ok. Gesù. Gesù. Allora. Ah. Ah. Oh no. Dove cazzo? Non mi ricordo. E' l'elevator card body qua? Uh. Non lo so. Forse? Mi sembra che da qua siamo arrivati. Che cazzo di posto è questo? Sì, 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 sì. Da qua siamo arrivati. Salva. Game Saved. Ok. Adesso. Dobbiamo trovare il punto dove eravamo prima. Forse qua. Dove dobbiamo mettere quell'aggeggio che abbiamo trovato. Quella sorta di... Non so cosa sia. Ecco. Forse era di qua. Dentro quel quadrante, nel pannello, c'era... Ma c'erano... Vabbè, ma lo sapete? Che sto a dirvelo. Dirvelo. Allora, was the select space rotator. Allora. Ecco, si è mossa. Bello suono è soddisfacente. Ehm... Ehm... No. 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 Ehm... È tutto sbagliato. No, è tutto... È tutto sbagliato. No, è tutto... È tutto incredibilmente sbagliato. Ok? Ok, zitti. Zitti. Silenzio. Sì. No. Sì. Sì. L'ho presa alla lunga, eh. Ma ce l'ho fatta. Minchia, 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 minchia. E mo' che l'ho fatto? Funziona adesso? Ok. Ok. Boom. Chiuso. Chiuso. Alla posta. E mo'? Find a replacement for a part of the water pump. Non mi ricordo nulla. E adesso che ho fatto sta roba? Come fai a ricordarti la strada? Ragazzi, non me la ricordo. Sto improvvisando. La strada è abbastanza dritta, in realtà. Ho la buona pasquetta. Non è il momento. La porta cargo hold. E fin qua. Cammina, succederà qualcosa? Beh, giusto, effettivamente. Siete degli stron... Cioè, con affetto, eh. Vabbè, a posto. Buono. Allora, morire affogati non è una delle morti migliori. Però, devo dire che effettivamente... Ci potre... Uh! Che ci fai tu qui? Che ci fai tu qui? Che è sto suono, no? Ma io non so che suoni so. Devo tornare indietro? Ho fatto? Avrò fatto, direi. Penso che debba tornare giù. Non lo so. Era un pesce d'aprile, è vero? Sì, sì. Penso ti abbia fatto vedere come è morto. Da pirla, vuoi dire. C'erano le maniglie per aprire la porta. Eh, adesso, sinceramente. Dino torna all'inizio. Ma se vuoi chiudo direttamente il gioco. L'altra porta, Dino. Ritorna alla porta chiusa. Ritorna alla porta chiusa. Questa? Bugiardi. Ah, l'altra, di là. Andiamo di là. Tanto, voglio dire. Dino, vattene. Eh, ma dove devo andare? Di qua. Piano, 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 piano. Piano, 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 piano. Ok, 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 mi avete fatto perdere solo tempo Questo l'abbiamo già fatto L'altra Potete essere un pochino più specifici C'era qualcosa senza energia La mia voglia Ma con Sustenium Plus Ho ritrovato la forza che c'è in me Fatevi i bibitoni di potassio, ragazzi Tra l'altro Che sarà mai Per 24 euro a scatola Ragazzi, sto perdendo tempo utile a tutti Quella in alto a destra Come? Vabbè Sento delle catene Siamo tornato all'inizio, no? Cargo hold Ed ecco io non Io non Ok, perfetto Allora, sappiamo che devo stare per forza qui Perché non posso tornare indietro Non è buono che stare qui Però sti cazzi Prova a chiedere informazioni E che non mi rispondono Non sono cortesi, ragazzi D'altronde Perché scatta così tanto sto gioco? Dall'altra parte Ma di che? Ah, qui, aspetta Eh no, qua ci siamo già stati Eh no, ma qua ci siamo già stati Ragazzi, ci siamo già stati Questa porta non porta Qua c'è ancora dentro il ciccio La lascio sola No, ho sbagliato Via Ragazzi, vi giuro che non ho memoria La porta che serviva Dino, all'ascensore manca le pipe All'ascensore mancano le pipe Ma, 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 ma Ma quale pipe all'ascensore? Allora, all'ascensore, eh Ma dove, ragazzi? Ma qua non c'è un cazzo da fare Wow Ah, forse serve per farla andare ancora più in alto? C'è un altro C'è altro da fare nella stanza del puzzle No, non c'è più niente da fare, ragazzi Find the replacement part of the water pump Dove ho trovato il pezzo di ricambio per la pompa ad acqua O l'acqua di pompa No, no Beh, Giorgio Armani Bene, bene, bene E sbaglio strada E sbaglio strada Ecco, mi osannano È allucinante E ragazzi, non mi ricordo la via Adesso proviamo ad andare di qua È chiusa Ok Torno indietro Vado di qua È l'unica Adesso qua ci sono due strade Destra e sinistra Proviamo ad andare a destra Cargo hold Non mi piace 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 Ok Stia facendo dei passi avanti, eh Non mi piace Non mi piace I corridoi nell'horror non mi piacciono Stiamo per avere un... Che cazzo di suono è Basta Non puoi no Che è sta roba? Non posso passare Ok Qua dove tengono tutti quanti i cargo Che cazzo è sto suono? Sono io? Sono i miei passi? Wow Ok, 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 ok È la prevedenza No, senza torcia No Senza torcia No Senza torcia No Che vuol dire mo? Che questi si muovono? Avanti, follo Non vedo un'h Che cazzo c'ho? Lì rideco la retroluminescenza Come faccio a vedere? Wow Ha una torcia? Scusi Ragazzi, facciamo prima così Così ce li vien dalle palle Perché è inutile che sto con l'ansia Che c'ero dietro il culo Se tanto l'unica roba che fanno è questa Ha senso Chiedo, chiedo, chiedo Perdono se Per caso vi Faccio spaventare Più io che il gioco Perché di per sé Parliamoci chiaro Non fa paura I was walking up early this morning By a loud scarping sound Against the side of the ship I thought we might have hit something In the fog But when I ran to the main deck There was nothing La parte Ah, la parte è bullata Attaccata E saldata E quindi The part is bolted on E perciò E dall'altra parte è chiuso X blocks from the other side Proseguiamo nel buio Minchia Ok Ora Qui l'audio gioca A favore Dello sceneggiatore Perché le ventole Che girano Con questa costanza ritmica Ricordano quasi Un cuore In tachicardia Sentite E metto un po' d'ansia Sa roba Dio santo Gesù Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo E via che non c'è più Dovrei 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 baciarlo Non so Sembra il momento giusto Per farlo Grease Greaves Vabbè Vabbè The hack is rusted chat Vabbè Sti cazzi Voglio dire Sta in punizione Pure lui Cacca troia Si è girato bene Vè calmati Calmati Ma che cazzo avete Ma ragazzi Ma porca puttana Ma non lo capite Che vi sto aiutando Viste No 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 Passa Passa Piano 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 Ho vinto Ok Ok Basta Basta Enigmi ambientali Sette Figa Sette Ci servono tre parti Una bianca e due nere Però c'è un salvataggio Ok Questa è chiusa Grazie al cielo Meno strada da fare Che c'è scritto qua My father has been missing for over a year now E la madonna Quanto sono stati chiusi qua dentro But today I receive a mysterious package from someone who claims he have known him Ah quindi questo qua Ha perso il papà Però ha ricevuto un pacco da parte sua Inside the package was a strange artifact like nothing I've ever seen before Ah c'era un artefatto nel pacchetto Apparente during the one of these expeditions my father had found his such relics Ha trovato questa reliquia sul suo babbo Two of them he was carrying with him when he disappeared and this one he sent to me Ah quindi uno se l'è portato dietro e poi è scomparso Il papà e l'altro l'ha dato a sto ragazzo Holding the relic in my hand I know that I had something to do with this With this disappearing Ah tenendo in mano so che questa roba Accentra con la scomparsa di mio padre Perhaps I can use it to find him Ma non mi interessa di questa side quest emotiva Non me ne frega proprio un cazzo di tuo padre Con tutto il rispetto Ma che è? Vabbè Non mi piace Non mi piace Ah ma sei tu ma vaffanculo Pensavo fosse un altro di quelli Avanti Avanti fallo No No Twist incredibile Vrench Take it E adesso lo fai? Non lo fa Non lo fa Ok dobbiamo sbullonare con l'affare di prima Però da qua uscirà il mostro Guarda 3 2 1 Corri 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 No Beh effettivamente ha senso che non esca Perché qua c'è il salvataggio Ok Posso dire una cosa positiva di questo gioco E' fatto incredibilmente bene a livello tecnico La fluidità nelle animazioni e nei movimenti della camera Possono sembrare stronzate Ma molti giochi horror che sono costretto a giocare Mi fanno star male Molte volte Per via del fatto che la telecamera è molto Ma non c'è più nessuno Non mi va bene E' molto scattante Invece qua è molto fluida Sono io che scatto Per lei Ok ok Oddio Gesù da dove è uscito Baffanculo Ok No 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 Bessima Bessima idea Ok 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 Che sto facendo Mi sono tolto l'apparecchio Che suono era Posso usare come arma contundente Replacement pump part Usala come arma Mi attacca Mi attacca Mi attacca Lo sapevo Cristo santo Gesù Lo sapevo Lo sapevo L'ho fatto giusto per prevenire Meglio prevenire ragazzi Meglio prevenire Ehi la Scusatemi eh Strategia molto importante in questi casi Krog Buono Abbiamo uno dei pezzi Ne devo trovare sette Vedi tu Ok Non so se devo andare verso la luce Non credo eh Eh no perché qua mi si Eh si qua mi era Mi era caduta giù la Sì 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 No no qua non posso tornare indietro ragazzi Lo consigli questo gioco? No non è male ragazzi Ha anche una storia abbastanza carina Più che altro un'ambientazione particolare Non se ne vedono molti Di giochi fatti così Nel Nel Nei Nelle navi cargo Oh 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 No No questo non faceva nulla Eccoci qua Eccoci qua Ok Ok Questo si apre o no? È ancora arruginito No è ancora arruginito È sempre lui Sì effettivamente sono sempre i soliti Tipo lui mi attacca Guarda Lo so Visto? Lo so Lo so Aia Aia Però noi stiamo rifacendo la stessa strada di prima Con la speranza che qualcosa cambi Ma non sta cambiando ovviamente nulla Quindi voglio capire adesso Se con questo pezzo di pompa Non abbassare la guardia Dino No tranquilli Sono al 100% Cosa diavolo è quello a fare? Allora con calma Con calma Quindi va a scoprire che tutto sto casino nasce per colpa di un Giusto? Ah li devo muovere? E non Sei E come funziona? Scusa Tre Due No 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 Uno Ah Ok devo portare Ok allora fermi Questo lo metto di qua Questo lo metto di qua Questo lo metto di qua E questo lo metto di qua A posto Non ha senso Ah i bianchi li devo mettere sopra Perché sono esattamente dello stesso diametro Ma non ha senso sta stronzata Ma così? Che fa Ah ma devo farlo Ah perché devo Ah Ho capito Allora questo di qua per forza Questo lo tiro su Sono cinque movimenti Questo lo metto di qua Questo lo tiro su Questo lo metto di qua Ok Questo lo tiro su Due movimenti L'uno di là Ah ma posso muoverlo solo di Ho sbagliato Benissimo 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 Allora questo lo metto di qua Questo lo metto di qua E siamo due movimenti Fermi Zitti 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 Questo lo metto di su Questo lo metto di Giù Eeeh Questo Questo lo metto di qua Questo lo metto di su Questo lo metto Merda Allora questo lo metto di qua Questo lo metto di qua E questo lo metto di qua Questo lo metto di qua Eeeh Questo lo metto di qua Eeeh Di qua Eeeh Eeeh Allora Allora Questo lo metto di qua Allora Calmi, calmi Ma io devo rifare la stessa combinazione che c'è qua sopra Bianchi sopra e grigi sotto Giusto? Dino, devi ragionare Non è il mio forte Sì, perfetto Allora Tre movimenti per muoverlo sotto È un delirio Quasi, quasi 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 Quasi, allora A sto punto prima devo muovere quello centrale Se io faccio così E se io faccio così E se io faccio così E se io faccio così O se io faccio così Ah, io mi sono morso qualcosa Attenzione, attenzione Uno Così E poi questo lo sposto di qua No, per uno Per uno Per uno è impossibile È impossibile Allora qualcuno deve stare fermo Quale metto? Quale lascio fisso? Questo lo metto di qua Questo lo metto di qua Questo lo sposto di qua Questo lo metto di qua Sì Questo lo metto di qua Non sto sbagliando Era giusto No No Allora fermi 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 Questo lo metto di qua 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 No 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 Stai facendo movimenti inutili Bene Sembra di essere tornati All'ora di educazione fisica Alterna i colori Ragazzi Volete dirmi qualcos'altro di ovvio? Quello l'ho capito Risolvi l'enigma Dino Devi muovere gli ingranaggi Grazie al cazzo Grazie al cazzo Allora questo lo metto di qua Cosa ho selezionato? No Porca di qua Il problema è che se sbaglio Devo ricominciare tutto da capo Devo prendere per forza quelli giusti Non sto facendo la stessa cacata di prima No Cazzo E non si può fare Rimaremo qua per sempre Vai ce la stai facendo Prima sposto uno nero Poi uno bianco Aspetta che c'ho C'ho la difterite all'occhio Strappa il quadro interno Risolto Intero scusami Perché devo spostare Uno bianco Tra l'altro sono fatti malissimo Quello centrale Allora quelli centrali Vedete che non li posso selezionare Quindi questo è un chiaro indizio Cioè per forza di cose Devo fare così Inizialmente E fin qua Zitti E no E non si può fare È impossibile Una forma particolare Tira una testata al quadro Non mettere il secondo bianco lì Non mettere il secondo bianco lì Ma lì dove? Già Dai brother è facile No Non è facile Devi solo mettere i Belunghi Eh? I? Non ho letto Non l'ho letto Il primo bianco lo porti in alto Ok Proviamoci Il primo bianco lo porto in alto Quale? Il primo bianco lo porto in alto E da qua Non si sa Poi il resto Poi lo sposto di qua Quello nero no? Poi quello bianco lo porto in alto E abbasso quello nero Poi quello bianco lo porto in alto E abbasso quello nero Eh perfetto Sono fottuto di nuovo Come devo fare ragazzi? Lo consiglio ancora il gioco? Ma Era giusto? Ma avevi fatto? Sì ma se non ho più mosse non l'avevo fatto No? Eh? Cioè non è che chiudo a cazzo io Ho sette mosse Posso muoverlo solo sette volte gli ingranaggi Il nero di destra da mettere sotto Ma che cambia? Ma cosa cambia? È uguale Non cambia nulla Il modo in cui li sposto Cioè l'ordine in cui li sposto Cioè in realtà sì Perché l'enigma sta tutto lì Però Sì adesso io faccio così Mi chiedo mi mente e perdono E poi faccio così No Che gioco di merda Allora Questo lo metto là sopra Questo lo sposto Di qua Perché? Non lo so Questo lo metto di là Lo sposto là sopra Questo lo metto di qua A quel punto ho due mosse Ho due mosse A quel punto ho due mosse A quel punto ho due mosse A quel punto ho due mosse Ho due mosse E guarda un po' Magicamente Come al sole Non ci riesco Seconda mossa Non ho letto Ma andava bene Però spostarne il primo In granate State scrivendo in 3000 E io non posso stoppare la chat Quindi non saprò mai Qual è la soluzione Quando sposti quello lateralmente Devi spostare quello al centro How basic Quando cammini Devi muovere una gamba dietro l'altra Dino ce l'avevi fatta Ma non è vero Perché se no ce l'avrei fatta Cioè Non continuiamo a dire cagate Per favore Fallo su carta E non ho una penna E non ho Sai cosa non ho? Voglia Oh Finalmente qualcuno lo dice Non ho carta Io non ho carta Non ho carta Non ho carta Cristo Dio Come prima Ma hai sbagliato l'ultima mossa Quale del 37 mossa Ho sbagliato? Allora Questo lo metto di qua Allora fermi Fermi Sposta solo uno a lato E dopo rimettilo a posto E così perdo due mosse però Vabbè Poi ci posso provare Rifai come prima Ma alla fine sposta quello a sinistra Ma come prima? Come? Prova così Un nero lo metti giù di lato Poi prendi il bianco centrale E lo posiziona il posto del nero Ok Proviamo Quindi sposto questo qua Poi prendo il bianco centrale E lo metto al posto del nero E mo? Cioè E adesso? Capisci che A quel punto Cioè Siamo sempre lì Rimaniamo sempre con una Con un Con un Guarda È impossibile È impossibile No scoccolo Ho fatto l'errore più grande Della mia vita Quello centrale Giù Allora Quindi È il centro il problema Così Attenzione No Ah 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 Si sposti in nero Non ho letto Cerca la soluzione Non si può Ah È difficile ragazzi Bianco Sinistra Su Centrale Beh Però Però ragazzi Mi fate pure le emoji Le emoticon Io non riesco a capire Pure le freccette Cioè Freccetta Bianco Sinistra Poi giù Centrale Nero Poi bianco Centrale Nero Destra Poi più un bianco Su Dio Bono È allucinante Il bianco In diagonale Ma se mi avete prima detto Di metterlo centrale Ma lo devo spostare In diagonale Ma qual è il sistema? Solo il primo che sposti Lo puoi spostare due volte Sì Lo devo spostare No beh Oddio Sì beh Lo devo spostare due volte Per forza di cosa Se sposto questo giù Per forza dovrò rispostarlo due volte Gli altri Posso spostare una Ma in realtà Anche questo Teoricamente E siamo a 5 Fermi Adesso Tac Tac E siamo A 3 Lo porto giù Proviamoci Cazzo ne so Vediamo se ce la faccio Ma non credo proprio Sto facendo la stessa roba di prima Mi sa che sto facendo La stessa identica roba di prima Ma è impossibile ragazzi È impossibile No ho sbagliato Ma sì Ma sì Ma sprechiamo Ma sprechiamo movimenti Ma Ma veramente Metti i due bianchi su La logica è una roba inutile Dino ascoltami Parti col diagonale bianco Poi metti il nero centrale Dove stava il bianco Quindi parto con il diagonale bianco Ma dove lo metto non si sa Però parto con un diagonale bianco Lo tiro su Lo tiro su Quello di sinistra Poi metto il nero centrale Lo devo mettere Dove stava il bianco E lo tiro giù Va bene Poi il bianco di destra Va al centro sopra Ok va bene Ok E quindi questo faccio così Sostanzialmente Quello lo riporto di là Ok Nero destra va giù Bianco c'è Non è possibile Devo segnare Adesso Adesso io Fa un culo Faccio così Non me ne frego un cazzo Dov'è Dov'è No non mi interessa No stai fermo No state fermo Buoni Basta 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 Ok Adesso seguirò passo per passo Le vostre indicazioni Quindi Prima di tutto Parto col bianco Lo sposto su Il nero segue Poi metti il nero centrale Dove sta il bianco E fin qua l'abbiamo fatto Poi il bianco di destra Va in alto sopra E quindi questo Lo spostiamo di là Nero destra va giù Nero destra va giù Ok Bianco centro Va in alto a destra Ok Ah vabbè poi così Grazie Google Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Alleluia Bravi 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 Ora non so se è peggio Andare avanti nel gioco Tu Mi attacchi? No Buono Tu sei qua dietro Da guardare tutto Mi stava perculando Dall'inizio Cos'è sta roba? Un'altra Un'altra cazzo di chiave Aspetta Aspetta che qua Non leggo la chat Vaffanculo Dino era semplice Certo Assolutamente Non mi sono neanche spaventato Lo sapevo Ma non me ne frega un cazzo Non mi interessa Guarda Vuoi la chiave? Tienitele Oh no In realtà non vi era nulla E questo non mi attacca Non ci credo Find a way back to cargo Old one Ma tu dimmi se mo' devo tornare indietro Magari sta porta adesso è aperta Unlock it Oh bello bello qui Agua guarda Ragazzi Fatto sta che Sinceramente Rast remover Ah Non ho la torcia I don't have a flashlight Tua madre Andate a fare in culo Fatto sta che veramente Google rimane la soluzione suprema Per ogni cosa Come la calcolatrice Hai risolto Ero in bagno Sì 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 Grazie alla mia Mestizia arguzia Ce l'ho fatta È stato È stato difficile Ma ce l'abbiamo fatta Niente che una bella Pisciata calda Sopra una botola Non possa sistemare Eh Vogliamo entrare o Ah fa in automatico Pensavo dovessi muovermi io Tutta sta cagata Per una chiave Sì Piano No 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 Stiamo per avere un jumpscare Io non avrò paura Stiamo per avere un jumpscare Dove cazzo sono uscito Siamo anche lui Chest pain Attenzione Tu mi attacchi Albert Turk Però io Lo sapendo Lo sapendo Lo sapendo Ormai mi stanno Lobotomizzando A colpi di A colpi di pugno Chiuso Sulla tempia Non so se sia la via giusta Ragazzi Francamente non mi interessa Scoprire Sangue È la via giusta Credo fosse ruggine In realtà Mio dio No ma dove cazzo mi trovo Ah Siamo tornati Ah Siamo tornati Piccolo impertinente Bastardo sudolo Attaccami Ma sì Ma non mi interessa Ma perché ci vai incontro Perché così me li revo dalle balle ragazzi Non mi fanno nulla Cioè Fa semplicemente È dall'inizio del gioco Che fa sta animazione Ma questa botola Prima c'era O da qui sono arrivato Ma non ha senso tutto ciò No è un altro Ah è un altro posto Cargold Cazzo è qua È qua Figlia Abbiamo una Ma che è successo Sono scivolato Ma ce la metto proprio tutta Mi stanno togliendo La speranza un po' alla volta Siamo tornati qua Eh È giusto Foto segnaletica Mamma mia Ok Ok Allora proprio la testa Inclinata da Da limone tattico I found a cargo ship Non mi interessa L'abbiamo già fatta Sta roba Qui è chiuso E andiamo Oh Li ho fatti a 2-2 i gradini Tadà Siamo tornati nell'incubo Eh no però Oddio Cazzo al buio Ma la devo rifare questa roba È una pessima idea Non mi ricordo la strada Ho sbagliato vero? Sì ho sbagliato Non dovevo andare di qua Eh ho sbagliato Devo tornare indietro Piano 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 Ma io ho sentito muovere Qualcosa Ma che è? Ma sono loro che si muovono? Credo di sì Credo proprio di sì Non vedo un'acca Non devi girare Fai finta di niente Sono solo manichini Sono solo manichini È giustamente È giustamente Piano piano Non so se li vedremo mai muoversi Ragazzi Ah elevator 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 Via 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 Posso tornare su? Grazie al cielo Grazie al cielo Oh signore Ok ce l'ho fatta The Mechanic Ho trovato Ho sbloccato pure un trofeo Qualcuno ha un po' di Memoria muscolare Chi? Ah loro sì Sono rimasti Sono rimasti effettivamente Ma ragazzi Ma io per favore Ma io che cosa vi ho fatto di male? Cos'è sta Ma che succede? Che succede? Sempre rompere i coglioni Che? Fermi Fè si sta sminchiando il mondo Ma perché ste notifiche di merda? Oh ce l'abbiamo fatta Ringraziamo il buon amato TikTok Che ogni tanto si sveglia E mi chiede di fare la notifica In due fattori Nonostante io sia tre anni Che abbia un canale TikTok Che devo fare qua? Ah bastava che Bastava avvicinarmi alla Minchia Siamo ai livelli A livelli di un rumba Return power to the freight elevator Eh? Questa è dinamite? Sì No bueno No bueno No bueno No bueno Bella la meccanica dei flare La flare Quanto durano? Sembrerebbe durare un bel po' Beh qua luce c'è Quindi siamo a posto Oh salvataggio Buono Cosa c'è scritto qua? I managed to escape down the service deck With a few others Who are not infected Ah quindi è proprio un'infezione Non mi sembra Che è sta roba? I need to find a replacement part Ci serve una Un pezzo di rimpiazzo Da piazzare qua Che abbia questa forma abbastanza Non saprei Eclettica Allora andiamo a riprenderci i flare Quanto durano? Per sempre? Buono Questo cos'è? Ma non è che mi serve sta roba Please not Not the flares Sono per emergenza Va bene Tanto non li lancio Li accendo e mi li butto ai piedi Porca puttana Bastarda Bastarda It's chain and shot È chiuso con una catena E lasciamolo così Scusate che mi prude tantissimo C'è una scala Dino? Bugia Eccoli qua I nostri amici Che grafica ragazzi Ma dove Dove sono finito? Mi rifrennabili voglia Di metterci una parte del corpo Tra le ventole Per vedere che succede Quanti flare ho? Sei Gli sto paresemente sprecando Ok Mancano dieci minuti Vaffanculo Devi darmi Forse questo è il nostro obiettivo E in questo punto esatto Ci serve un modo per aprire quella porta È lungo sto gioco Pensavo durasse Vi giuro che pensavo durasse molto meno Ma qua c'è qualcosa da prendere Cos'è sta roba? Un videoregistratore? Degli anni 80? Beh Allora? Vabbè la porta è chiusa Boiler No 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 Ci serve un codice Allora C'è un sistema matematico Proviamo con 00001 Non va 00002 Non funziona 00003 Ci vorrà un pochino ragazzi Però A una certa vi prometto che la soluzione arriva Ma non si spengono i flare Io direi che It's locked from the other side Buono Non si può andare avanti nel gioco Ci serve un codice ragazzi Io non so quale sia Vi lancio un flare qua in mezzo Guarda Era un fallito Che cazzo c'era sul soffitto? No 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 C'era una roba sul soffitto Pensavo fossero dei cavi Sono le zampe del grancho imperatore di due metri? A ste scale che cazzo servono? Scusa E' una Per appoggiarci Non lo so I Oh mio dio Era per appoggiarci gli asciugamani? Dove diavolo mi trovo? Ma che cazzo? Una toilette Buono Buono Drawing water from the lower floor Ah dobbiamo Dobbiamo drenare Drenare l'acqua Sì ma io spero mi paghino abbastanza Per far sta cacata Perché Davvero C'è sto lavoro mi sembra Records Mi sembra qualcosa Che è difficile Da Da tenersi Ecco Puttana bacca Mi Mi crancio Mi crancio Questo sono Ok Stay out of the boiler room There is something in the boiler room Tra l'altro è esattamente lì che dobbiamo andare Luke Con 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 Me Today Concerned Non lo so Adamant Did Something Vabbè insomma c'è qualcosa lì At the first rate of it was Restoran Ma Cosa dice che è? I got Squilky No Non ci dice Ah il codice Il codice però è 3792 37 3792 3792 Piano 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 Boney Allora i ragni come vi dicevo non mi spaventano Non mi Non mi impressionano Non Non vedo perché dovrebbero in qualche modo ecco Risultare pericolosi Sono creature piccole E solitamente non tendono a saltare molto spesso in bocca I flare rimangono accesi e questo è un passo enorme Non mi ricordo più la password ragazzi qual'era? Boiler room Boiler room Boiler room 3792 Che cazzo dovrei fare? No 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 Eccoci Eccoci Buono 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 Che cazzo ci metti la faccia? Certo Ma certo Ma è la soluzione migliore Ma mi pare ovvio Mi pare ovvio Questa era proprio la cosa che bisognava fare In questa situazione la cosa migliore da fare è questa Pezzo di brassia Perfetto Perfetto Cristo santo Non mi piace Non mi piace Ma quanto cazzo C'è messo due secondi ad entrare e quattro ore ad uscire Non ha senso Dite che mi insegue Mi inseguirà È chiusa dall'altro lato Ma allora Questa porta qua comunque rimane chiusa Allora andiamo a prenderci flare di nuovo Perché io ho il terrore di rimanere Salve Salve Siamo così simili e così diversi allo stesso tempo Ho il terrore di rimanere senza luce ragazzi Perdonatemi Sembrerebbe che il cattivone di questo livello è il ragno Ma l'uomo scafandro che abbiamo visto prima Quanto manca alla fine Ragazzi non ne ho idea Non saprei Non ho la minima idea di quanto possa mancare Credo che siamo verso la fine Allora di qua No Oddio non mi ricordo più dove devo andare Guarda dietro al boiler E abbiamo perso tempo utile E anche un flare Madonna Quell'ombra sembrava una testa Dovevo tornare sulle scale Credo di qua No Che cazzo devo andare? Sì forse di qua Avevo trovato un paio di chiavi Eccoci Eccoci Olè Bello Bello Stoppa le ventole Buono Perfetto Ok Questo è uno dei suoni più terrificanti della vita Le ventole del condizionatore che si spengono Ad agosto Eh no E basta Eh no ma basta Per favore Vabbè qualcosa lo ciuccerà Lo tirerà su Dai 3 2 1 3 2 1 Ah no vedi Ma com'è possibile Vabbè Dove siamo finiti? Ah ci dormiva qui I don't think I'm making it out It is alive The only one left The shittering is louder Ah questo è l'ultimo rimasto All I can do is sit here and watch As the last flare burns out Bene 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 Questo è l'ultimo rimasto Vabbè Buon per lui E che è sta roba? Questi sono i settori dove l'acqua è rimasta Insomma l'acqua ha chiuso tutto Quindi dovremmo drenarla con questa Water pump control Esatto Ahà Ok 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 Ah è lì dove siamo stati prima Non ha senso Non ha senso Non ha senso Ma fa senso Ok Basta seguire i flare ragazzi Che ci vuole? Adesso Abbiamo fatto tutto Dovrei teoricamente tornare Dove c'era il bagno Perché c'era il buco nel pavimento Dove cazzo Rola è? Il bagno Di qua? Non mi ricordo E basta Storage Ah no qui è chiuso Dove cazzo era il bagno? Non me lo ricordo Avanti? Dietro la botola Eh no Allora Aspetta Già che ci sono Ok Dietro la botola Allora Forse di qua Mi sa che mi devo infilare qua dentro Per andare al bagno Sai? Nel buco Eh perfetto Dove era il buco? Nel bagno Se qualcuno mi risponde Il bagno È fatta Ma dai Ma che tristezza Ma io pensavo fosse una sorta di arachnid Un'arachnid Un granchio Ma così fa schifo È un corpo umano Con delle zampe Ma mi fai schifo Mi fai Ma no Ma non Ma non Ma no Ma guardalo Allora se mi dai un salvataggio Magari Quante cazzo di strade ci sono Però Flare Buono E qua Davvero Bello l'effetto Senti il suono Figo Eeeh Cioè ho fatto canestro? Ma incredibile Non vedo un cazzo Non vedo Salve Perfetto Vediamo se c'è qualcosa qua da prendere Ma non credo No Non c'è niente Torniamo su Mi sembra abbastanza dritta per dritta Sta roba Mi ricorda Questo pezzo di gioco Mi ricordo un sacco Son of the forest Anzi The forest Non Son of the forest Pisciatina tattica dal tubo Dalla pipe Dal pipolo Ok E' bloccata Ottimo Esce da lì Esce da lì No Non esce da lì Siamo morti Siamo morti It's seized up Adesso magicamente aperto Guarda No Buono Io Non so più che Dove sbatta la testa ragazzi Direi che ci sono soltanto due vie Eeeh Sono entrambe chiuse Quindi sono le 23 e 04 Direi di chiuderla qui Non sto certo cercando di Trovare una scusa Per chiudere il prima possibile il gioco Si è chiaro No Non è da me Ah Già c'è sta strada qui Allora aspetta che qua ci sono i flare Questa è chiusa dall'altra parte Quindi andare di qua Mi servirebbe un salvataggio però Perché Mi vorrei salvare la partita Se è possibile Dimmi che qua c'è un salvataggio Ma figa Siamo tornati qua Vabbè Allora Siamo tornati qua E a sto punto Il salvataggio dovrebbe essere qua Nei pressi Giusto Qua Eeeesatto Ok ragazzi Allora la prossima volta lo continuiamo Vi dirò Come vi dicevo Non mi sta dispiacendo Certo Parliamo di un gioco Veramente simile ad Amnesia Cioè non è che cambi molto Nell'aspetto Ai classici horror Però l'ambientazione è qualcosa di nuovo I mostri purtroppo mi fan cagare Cioè A parte I manichini I ragioni Non è che siano Chissà Cioè il ragione non è che sia Chissà quanto ispirato Perché ha un torso Con delle zampe Che sbucano a caso E quindi visivamente Fa abbastanza cagare Però per il resto ci sta A me non ha fatto paura No Il ragno non Vabbè ma ragazzi Uno non è un ragno Due Bisogna saperle fare le cose Per mettere un attimo di ansia Basta poco Così come serve molto E questo è bello dell'horror Perché poi C'è un gioco horror Che deve uscire Che si chiama Luto Che è un lenzuolo Adesso vi faccio vedere il trailer Non vedo l'ora che esca L'abbiamo visto più e più volte Ma ve lo faccio vedere volentieri Ah tra l'altro Voi di TikTok Venite di qua Che vi faccio vedere il trailer Di questo gioco horror Veramente incredibile Nel mentre chiude È stato un piacere Grazie mille Ci vediamo Se volete l'horror night Mercoledì Che continuiamo con No facciamo un altro gioco horror Nuovo della Cilasart Che fa cacare sotto Con le anomalie Veramente figo Altrimenti domani Dovrebbe esserci Forse domani c'è Minecraft Boh non mi ricordo Vabbè venite di qua Vi aspetto Invece voi su Twitch Dicevo Luto È appunto un lenzuolo Cioè sostanzialmente Si tratta di un lenzuolo Che copre il personaggio Copre il mostro Cattivone Di turno E Ma con quello Riesce Riesce veramente Ad inquietare Vi faccio vedere Aspettate che dovrebbe essere qua Luto Eccolo In arrivo Pure questo Non si sa Quando cazzo uscirà Io non vedo l'ora che esca Avevamo provato una demo Di sto giochino Io ho paura dei lenzuoli No vabbè Comunque a parte gli scherzi È per dire che Basta Basta poco Basta poco In un gioco horror Però devi anche Metterci molto Cioè capisci È un lenzuolo Non c'è niente sotto È un lenzuolo È la geniale idea Del concetto Che si era scritto È la geniale idea Del concetto Della Del mostro sotto al lenzuolo Del bambino Che si veste Da fantasma Concettualmente Non so se a quando cazzo Uscirà sta roba Tra l'altro con una grafica Della madonna Perché è veramente Fighissimo Credo che sia fatta Con la real engine Luto Luto Che cazzo è sta roba Ma è sempre luto? Ma cos'era? C'è stato Questo non l'ho mai visto Ma cos'è sta roba? Vabbè Scopriremo quando uscirà E potremo giocarlo E toccarlo con mano La demo l'abbiamo già portata Ci siamo già scagazzati sotto A me è piaciuto Veramente tanto Perché c'è sta casa Claustrofobica Che tra l'altro cambia Nel mentre che c'è Tutta la storia Riguardante a questa famiglia Distrutta Eccetera eccetera E il futuro E il passato Che si mischiano Però l'horror è questo E lo sbadigliare Continuo Alternato A dei ritmici infarti L'horror è questo L'horror è Un Concettualmente Qualcosa di semplice Che però Deve terrorizzarti Devi Devi costruire la realtà Devi far paura Con qualcosa di familiare Quindi non è che Sare per forza Ragno Lo zombie Il vampiro Quello andava bene Negli anni 50 Negli anni 60 Adesso è diverso Anzi Più la cosa è Diciamo familiare Semplice Più fa paura Una roba del genere Con un torso Con delle zampe Che sbucano fuori Che cicciano fuori Non è detto Che faccia paura A meno a me Mi fa solo ridere Sembrava 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 un paramecio Non so Dino hai visto Shogun No non l'ho visto Di cosa parla? Dello Shogunato Immagino Si sono tutti infermi Chi guida la nave? Si guida da solo Ormai la tecnologia Ha fatto passi Da davanti Da davanti Per non dire dei passi Che ti ha fatto da dietro Lascia perdere Non so parlare ragazzi Mettiamo un po' di musica Di sfondo Talassofobia animation Ah È uscito un nuovo trailer Di dredge Tra l'altro Wow Allora mettiamo un po' di musica Ah ho visto il film Povere creature Se volete Ve ne parlo O ve ne avevo già parlato Non mi ricordo Allora Roba senza copyright Chissà che musica metto Probabilmente Sempre la stessa Ah Anche io l'ho visto L'ho visto oggi Mamma mia L'ho visto proprio ieri Beh ci sta in questo momento In cui giustamente Ci sono le vacanze Perché non guardarsi Tre ore di film Di cui dieci secondi In bianco e nero Che non ho mica capito perché Che ne pensi di Subnautica Subnautica è un gioco Meraviglioso Veramente una figata Quella è l'unione perfetta Tra l'horror E il survival Veramente un gioco Dei controcoglioni Non era nato per far paura Però ha tirato fuori Una delle fobie Di molte persone Giocherai a un nuovo gioco Kratos Bellissimo Lo portai Intendi God of War Ma non credo Esca un altro God of War Se non forse Tra cinque anni Opinione su Oppenheimer Mi ha annoiato Mi ha annoiato tantissimo Ragazzi Cioè sinceramente L'ho trovato uno dei film Più deboli di Nolan È bello Perché ha un'importanza storica Perché è come al solito Gli americani Che S'abbassano la zip Dei pantaloni E fanno vedere Le loro enorme ciola E parla Concettualmente Di quello che è Una tragedia Dell'umanità Però devo essere sincero È una rottura Mi ha proprio annoiato Mi ha proprio rotto le balle Dall'inizio alla fine Ho gradito molto di più Napoleon Ma molto di più Cioè Napoleon Mi è piaciuto un casino Finché tutti hanno detto Una merda Perché non segue la storia Ragazzi Le scene che non sono storiche Sono due E tra l'altro Sono francamente Capibili Perché Va un pochino A Esagerare apposta Cioè ci sta E tratto da Non è che devi far pari pari Bello Napoleon è fighissimo Sono felice Perché a molti non Cioè Molte persone Vabbè che Gli americani Cioè gli americani Si sono lamentati Che dal punto di vista storico Non è accurato Zitti E Quindi insomma Certo che ho giocato Red Dead Redemption 2 Spettacolo Hai visto un nuovo Kung Fu Panda? È uscito un nuovo Kung Fu Panda? Sono fuori dal mondo No non l'ho visto Lo devo vedere Ma è su Disney Plus? So cosa fare allora Belle crociate Allora Red Dead Scott È uno dei miei registi preferiti Perché Lui È È È È un pazzo Cioè lui vive Nel medioevo Però ti ha tirato fuori Alien Cioè Capisci che è un uomo Che sta Agli antipodi Quindi I suoi film li adoro E The Duel Di Red Dead Scott È uno dei film più fighi Che abbiamo mai visto È il cinema Ah cazzo Kung Fu Panda È ragazzi Il cinema Mi sa che Ci andiamo giusto Perché ci ha invitato Bethesda Per vedere la prima Della nuova serie di Amazon Di Fallout Non vediamo l'ora Sarà il 10 Quindi prossima settimana Tra l'altro Anche lì Organizzeremo la settimana In modo tale Probabilmente faremo Una tre ore Lunedì Perché poi Martedì Ho il compleanno Della Vale Quindi non ci sono La sera Perché festeggio Il compleanno Con lei E poi Mercoledì Ci sarà Questo evento Quindi faremo Una tre ore Lunedì Martedì Non c'è la live Mercoledì C'è la live Però la faremo Un pochino Più ritardo Quindi se iniziamo Le 9 e mezza Iniziamo Probabilmente Inizieremo Per le 10 Iniziamo a giocare Subito Dopo che abbiamo giocato Vi parlo un po' Di come è stata La prima puntata Di questo Della nuova serie Su Fallout Che non vedo Ora di vedere Che sono molto curioso Anche perché Si presta tanto Fallout Diversamente dagli altri Ripeto Questo cazzo Di The Last of Us È stata una delusione Devastante per me Torino Comics Ragazzi Non credo di riuscire a venire Abbiamo troppe robe Da fare Cioè io e Andrea Stiamo veramente Lavorando come dei pazzi Cioè vi giuro Tra il progetto Il progetto E tra i ghost fuckers Cioè siamo Una dietro l'altro È un delirio Non so come sopravviveremo A sti mesi Dove dobbiamo cercare Di far uscire tutto Questi aspetti Dei giochi orano il futuro Non ne ho la minima idea Non ne ho la minima idea Perché Si tratta di Di scavare Bisogna trovare una fobia Bisogna che Venga A me piace più che Lo spavento Piace il disturbante Quindi se ti tira fuori Qualcosa di disturbante Ci sta Deve alienarti Deve portarti Da qualche parte L'horror Non deve essere Una roba Tipo Ad esempio Vi faccio un esempio pratico Dead by Daylight Per me è la roba Meno horror al mondo Nonostante sia categorizzato Come gioco horror Per me quello è L'anti-horror Sono due coglioni tanti Quello non è niente di horror Quello è un gioco Online Cooperativo PvP PVE Quello non è horror Per dire E ce ne sono a miliardi Di giochi così Anche Fasmophobia Demonologist Per quanto carini e belli Su questo canale Le abbiamo portate Però non è quello l'horror Per me l'horror è diverso Anche questo Lazaret È bello Però non è che dici Wow Tu volevi fare questo lavoro O volevi fare altro Ho una passione Per la giocoleria Volevo fare Ai semafori Ogni tanto ci sono questi individui Che prendono Le bottiglie Le eroteano nel cielo E compiono atti Che sono gli dei Che soltanto gli dei Possono ambire a fare E volevo essere uno di loro Ma di Inception Che ne pensi Che Vabbè è un bel film Un bel film Comunque detto ciò Vabbè ragazzi Inception Siamo anche indietro a bestie Con gli anni Non c'è molto da dire È È stato È È una matrioska È un film Nel film Nel film Nel film Cioè vai sempre a scavare In profondità In quello che è il sogno È bellissimo Recitano tutti da Dio Certo non me lo son visto Più di due volte Perché francamente Anche due coglioni Con questo finale aperto Che aperto Non è assolutamente Perché è spiegato E si capisce benissimo Cosa succede Però Vabbè A me non Mi piace Ma non è Non è uno dei film Che preferisco Ecco È molto bello Di che cazzo dobbiamo parlare Non mi ricordo più Di povere creature Dovessi giocare ad Outlast Attenzione Continuerà i backrooms Sì lo continuo Sì ragazzi Io facciamo questo di lavoro Cioè il nostro lavoro è questo Lo so che può sembrare strano Però nel 2024 Ormai esistono nuovi lavori Tra cui Quelli legati a internet All'intrattenimento su internet Che è ormai Al numero di visualizzazioni E di gente Che viene spostata Come si dice adesso Ironemente influenzata oggi Come eco e risonanza Siamo ai livelli della televisione Quindi Parliamo Di una sorta di televisione privata Concettualmente Quindi sì Questo è il nostro lavoro ormai Cosa volevi fare prima di questo? Quello che clona le chiavi Il fabbro che fa le chiavi Bellissimo L'uomo chiave Di che parla povere creature È tratto da un romanzo di E racconta la storia Di questo Frankenstein al contrario Cioè dove il creatore è un mostro E la sua creatura è la Bella Infatti si chiama Bella La protagonista Che è recitata da Emma Stones Questi occhi sempre più in fuori Figa di Dio Un po' di scotch Magari E Sostanzialmente è un Appunto Un Frankenstein al contrario Quindi non è il mostro Che cerca di Che è un reglietto Che scappa Ma è un mostro Tra virgolette Una creatura Che nasce da questi esperimenti Che adesso vi spiego Senza spoilerare più di tanto Che impara a vivere E ha tutte le fasi Che una donna Un essere umano Però nel suo caso una donna Compie Quindi è sostanzialmente È proprio un ciclo vitale Ed è un bel film Ci sono dei momenti Fuori di testa Ci sono dei momenti Che fanno ridere Ci sono dei momenti Che ti fanno incazzare Come una belva Tipo quando lei Dà via i suoi soldi Chi ha visto il film Lo sa benissimo Io mi chiedo ancora Perché Ma perché Deficiente Perché Però è ingenue Naive Che ci vuoi fare Detto ciò Comunque Qual è il fulcro Del film Sostanzialmente Il Lo scienziato Interpretato dal nostro Daddy Defoe Scusatemi ragazzi I nomi non me li ricordo Godwing Una roba del genere Vabbè Gioca a fare Gioca a fare dio Questo tizio Figlio a sua volta Di un altro scienziato Che lo torturava Che ha fatto su suo figlio Esperimenti orrendi Ce l'ha castrato Gli ha staccato pezzi Di corpo Questo adesso deve digerire Attraverso una macchina Con una scena Che fa schifo Che poi io digerisco Così ormai Faccio E poi viene fuori Una bolla Comunque Si mette a fare Gioca a fare dio Quindi cosa fa Stato Prende il cervello Del bambino E lo impianta Nel corpo Della madre Quindi questa donna Adulta Concettualmente Ricomincia a vivere Quindi questo bambino Nasce direttamente Su un corpo adulto E si sviluppa Due volte più velocemente Rispetto al normale Perché è un corpo Che già ha Una struttura pronta E fatta E cresciuta E quindi deve imparare Impara super velocemente E si sviluppa Da zero E' una donna Quindi il regista Cosa gli fa fare La prima cosa Che gli fa fare E fargli scoprire Il sesso E da lì diventa Una puttana Questo è Questo è il film Io non centro Assolutamente niente Questo è Il film è fatto così Andate a vederlo E dite voi Io non centro niente Vi giuro Vi giuro E' fatto così il film Abbiamo giocato A Darkwood Sì sì E soft porno Ma mica tanto soft Come si chiama Povere creature Non è che Allora Non è che il sesso E' l'argomento principale Di tutto E' che giustamente Poi tra l'altro Nel film E' anche geniale Come l'hanno posta La cosa Lei scopre Nel sesso Uno svago Un momento di felicità Ma quando lo scopre? Lo scopre quando è ancora Celebramente piccola Ma è nel corpo di un adulto Quindi un corpo normale Un essere umano normale Sviluppa la sessualità Insieme al corpo Con diversi step Invece in questo caso No In questo caso È una bambina Il cervello Il cerebro di una bambina Dentro il corpo Di una donna Fatta e formata Quindi quando Scoprendo se stessa Scopre Quello che è l'orgasmo Sostanzialmente Definisce Quel momento lì Come un momento Di massima felicità E lei nel film dice Posso essere felice Quando voglio E quindi Lei abbraccia La sessualità In un modo in realtà Molto normale Viscerale Cioè capisce Che il sesso La fa felice Sostanzialmente E quindi da lì Alcune scelte Della sua vita Passano su quello Però in realtà La cosa che fa ridere È che è geniale Perché nel film Ti fa capire Cioè È quello che in realtà Le persone fanno Cioè concettualmente Quando tu sei piccolo Teenager C'è il cazzetto duro Sostanzialmente Tu ragioni con l'uccello Così come Come la ragazzina Presa dagli ormoni Sfarfalla con la fantasia Pensando a storie d'amore Ragionando con la batanga E concettualmente È la stessa roba Quindi qua Ti fa vedere Come lei inizia Con questa storia Dove in testa C'è solo una roba Che è il sesso E bla 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 Per poi cambiare Il personaggio si evolve E inizia a capire Scopre l'arte Scopre la musica Vuole diventare più colta È un bel film ragazzi Guardatelo Ovviamente però Va visto Con un determinato concetto E dunque Quella domanda Che mi fate in chat Giustamente Cosa ne pensi Del Masseo Giustamente Mi sembra giusto Mi sembra molto ovvio Non so perché Alla parola Cazzetto Hai pensato a Masseo Però Sincasen Lo portiamo Mercoledì Ragazzi Il mostro È proprio Un mentol Abbenito Qual è il gioco Più bello Che tu abbia mai giocato Sincasen Lo portiamo Mercoledì Ma Lirladino Allora ragazzi Ecco Questa è una cosa Importante In realtà Io vorrei potervi Far vedere Ma non posso Perché sono E sono ancora In montaggio Vi posso giusto Far vedere La schermata Sostanzialmente Principale Per farvi un Leggero 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 spoiler Cosa succede Allora Il progetto Non progetto Irle È una cosa Il progetto Ghostfuckers Quindi L'esplorazione In live Di un luogo Abbandonato L'abbiamo dovuta Spostare Da live A Progetto Solo su youtube Per una questione Di permessi Non avendo permessi Non possiamo Permetterci Di rischiare Il banno Su twitch E quindi Di fare una roba Del genere Quindi Entrare In un posto Abbandonato E possibilmente Farci del male Blah 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 Su twitch Quindi non si può fare Avevamo pensato Di farla live Su youtube Ma è stessa roba Così Non figuriamoci TikTok Anche peggio Allora C'è gente che lo fa E se ne sbatti i coglioni Questo Per carità Ma noi non vogliamo farlo Non vogliamo farlo Perché Non vogliamo Rischiare Sostanzialmente E siccome siamo abbastanza Sfigati con le piattaforme Non con twitch Twitch ci ha sempre trattato Con rispetto Anche perché noi Abbiamo sempre trattato twitch Come una piattaforma seria E bla 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 Per carità Mai fatto strozzate Però Potremmo farla su tiktok Ma siccome già tiktok Ci bacchetta Dall'alba dei tempi Perché Ci ammazza un video Si un video no Metterci anche a fare Una roba del genere Sarebbe pericoloso Quindi abbiamo deciso Di fare direttamente Delle puntate Perciò su youtube Voi vedrete Le produrremo qua In live Per la prima volta Ci sarà una sorta Di premiere in live Dove insieme Guarderemo Questa prima puntata Dei ghost fuckers Sempre sul laboratorio Blah 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 È in fase di montaggio Adesso vi faccio vedere Adesso vi faccio vedere Giusto lo scheletro Del progetto Sempre che funzioni Che è Sto popò Di roba qui Wow Vi faccio vedere Giusto sta cacata qua Questo è in fase di montaggio Il progetto Quindi ci siamo A breve Vi rilasciamo Un bel trailer Così potrete gustare Eccetera Eccetera Il tempo di editarlo Ragazzi Il tempo di editarlo E viviamo insieme Vabbè Noi nel nostro caso Riviviamo Ma vivremo insieme La prima parte Del progetto Laboratorio Ghost fuckers Eccetera Eccetera Non vedo l'ora Ragazzi Di farvelo vedere Perché non solo È venuto una figata Ma sono successe cose Cioè Alla ricerca del paranormale Qualcosa di paranormale Effettivamente è avvenuto Quindi Non vediamo l'ora Di farvelo vedere Sì faremo una premiere La faremo qua in live Sostanzi Cioè una premiere Si può fare la premiere Su youtube Ma non credo che la faremo La faremo prima la live Dove facciamo vedere Il video per la prima volta In live Così voi potete chattare qua Nel mentre dite le vostre Io leggo i vostri commenti Sono molto curioso Mi riguardo con voi il video Starò zitto e muto Staremo zitti e muti Ci sarà anche Andrea Ovviamente Dopo aver concluso tutto Vi spieghiamo Cosa è successo Il detto nel quinte Cioè facciamo qualcosa Di un po' più complementare Dato che purtroppo Non possiamo farla Direttamente in live La cosa Poi Attenzione Questa è la prima puntata Dal momento in cui Se ci daranno dei permessi Successivamente Ma non vedo perché no Perché stiamo anche cercando Di rodare e capire Qual è la natura Di questo progetto Alla fine al 100% A quel punto Se ci daranno dei permessi Noi potremo Esplorare tranquillamente Un luogo Con dei permessi Quindi il proprietario Di un luogo Ci dice Sì sì potete entrare Potete fare le riprese A quel punto Noi possiamo preparare tutto E fare direttamente La live E fare i ghost fucker Dal vivo Come dio comanda Ma quello è un se Saranno qualcosa A avvenire Perciò dovete aspettare Ragazzi aspettate Comunque Il progetto è qua È pronto Lo stiamo Stiamo lavorando per voi Mi sono perso i 10 minuti Qualcuno mi fa un riassunto Ah Come si fa a trovare Il link per telegram E basta che scrivi Comando telegram J.K.A.Stra Chi è sub Ce l'ha in automatico Cosa ti aspetti Dal prossimo ghostbuster Che uscirà Una vaccata Lo dico Tranquillamente Perché l'ultimo L'ultimo ghostbuster Che è uscito Non ha fatto cacare Come il ghostbuster Al femminile Che è stata per me Una roba veramente oscena Però Ha fatto cacare Cioè nel senso È stato Sì Non è che se Mi metti gli attoroni Dell'uno Dei primi Dei primi film Allora Siete perdonati Diciamo che Questo che sta per uscire Non lo so Non è che mi Mi ispiri più di tanto Assomiglia al nonno di Heidi? Grazie Bellissimo Un uomo fiero Potente Faceva tremare i monti Con una parola A parte che non parlava mai Picchiava Heidi Giustamente Per Cioè giustamente Nel senso Visto che Prima parlavi di Scott Che ne pensi Della saga di Alien Il prossimo film in uscita? Ah boh Non ho neanche visto Non sapevo neanche Ci fosse il prossimo film in uscita Non ho neanche visto il trailer La saga di Alien Mi piace un botto E diversamente da Dal pensiero Diciamo Gli ultimi Mi sono Piaciuti tanto Prometeo Se quelle robe lì Mi sono piaciute Veramente un casino Molto figo Concettualmente Hai mai avuto l'idea Di aprire un OnlyFans? Certo Il Marzone? Eccoci qua Ci risiamo Prima o poi Devo fare una live Col Marzone E dirgli La smetti Per favore Io sono un pelato E con la barba Da prima di te Come la mettiamo? Eh? Ma la differenza Tra GhostFuckers E la live Che GhostFuckers Sono È un progetto Cazzaro Tra virgolette Dove noi Andiamo a fare Andiamo Concettualmente a fare I cacciatori di fantasmi All'interno di queste strutture Abbandonate Mentre il progetto ERL È un film interattivo Dove voi Potete scegliere Quello che faccio io Cioè sostanzialmente Voi comandate me È tutta un'altra roba È un progetto particolare Ci vuole del tempo Ci serve tempo Ed è una roba lunga Quindi il progetto ERL Che vuol dire Horror Night In Real Life È una roba GhostFuckers È una serie di film Video Che faremo Che stiamo facendo Per puro intrattenimento Tutto qui Heidi Tra l'altro Daxin Incredibile È venuto con noi Ovviamente Il nostro cameraman Di fiducia E appena Tipo La prima stanza Che abbiamo trovato A parte che il posto Che abbiamo esplorato Ragazzi Era enorme Non finisce più Non finisce Cazzo più Siamo stati dentro Praticamente Due orette Non finiva più È gigante E la prima cosa Che ha fatto Daxin Con la telecamera È stata Scimolare Però la telecamera Era a posto Sì sì Non l'abbiamo manco Visto tutto Perché 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 Ma non Non parlo molto Non voglio parlare molto Di questo Ne parleremo dopo Ragazzi Di dove sei Perché sei Siamo In Lombardia A Milano E Perché lo siamo Perché mio padre E mia madre Si sono abbracciati E la cicogna Mi ha sputato Devono fare Un parco a tema In tema A tema Dragon Ball Ah sì L'ho visto Non mi interessa Daxin Una garanzia Povero Dax Ma guarda Andrea Si è comportato Male Durante l'esplorazione Cioè Non avete idea Di quante volte Gli ho detto Uno Non puntarmi la torcia In faccia Non si vede un cazzo E Vabbè La torcia Non ce l'ho qui E una torcia Di 3000 ampere In faccia 3000 lumene In faccia Non è che sia bello C'hai Le pupille grosse Così Perché stai cercando Di captare Ogni forma di luce E Se ti Piantano un faro Negli occhi Praticamente Gli occhi Però lui Non è una persona Normale Quando usa una torcia Non è che punta Per terra Fa così Quindi la puntava In faccia A me A Daxin Accecandoci Ora voi Vi fate delle grosse risate Ma se sei in un posto Pericolante Con letteralmente Dei buchi Nel pavimento E ti accechi Ci finisci dentro Quindi Per punizione Io e Daxin Abbiamo spinto Andrea Dentro uno di questi tombini Abbiamo lasciato lì Un dieci minuti Successivamente Il video non è pronto Quindi Che cazzo Vi faccio Posso farvi vedere Un pezzettino Del lavoro Però è un delirio C'è Queche ore sono 33 Ma giusto al volo Ragazzi Non voglio neanche Spoilerarvi troppo Scusatemi Io non porterai Questa live Su youtube Tutte le live Le porto su youtube Dio bono Prima puntata Che bravo Daxin Eh sì Hai mai visto John Witch Sì sì L'ho visto L'ho visto L'ho visto Siamo conosciuti È stato un periodo Strano Gli ho accarezzato Il cane Lui mi stava uccidendo Non si apre più Il progetto Ragazzi Abbiamo buttato via Tre giorni Della nostra vita Allora Fermi Vi faccio vedere Questo pezzettino Qua Ok Oh Sì Però non so Se riesco Di ingrandire No non si può Vabbè Lo vedrete in piccolo Masticarsi Vi faccio vedere Giusto questo pezzettino Qua Tanto non ha audio Non si sente niente Quindi Siamo a posto Guardate E ditemi voi Questo è L'ingresso Nella struttura Pronti Via Vedete in piccolo Lo so Avete ragione Ma abbiate pazienza Questo è il nostro Atletico maestro Che come potete vedere Si destreggia Perfettamente Guardate Guardate Un piccolo di cervo Appena sgravato Si destreggia Perfettamente All'interno Di quella che Diciamo la La scena Basta Non mi faccio vedere Più nient'altro Bomb 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 Basta Basta Ma poverino Eh ma se è nato così Non è che Ci dobbiamo fare Più di tanto Il tempo era perfetto Il tempo era Perfetto Ma poi Vogliamo parlare È vero Perché tra l'altro Mentre noi stavamo Registrando È stato il periodo In cui c'è stata Una tempesta Cioè c'è stata La tempesta Ma non dico Una tempesta C'è proprio Stato una cazzo Di tempesta E qua In Lombardia Poi non so Nelle altre parti D'Italia Non lo so C'è stato veramente Un delirio Nella giornata di sabato Sabato Domenica 20 fortissimi Raffiche Devastanti Tanto che Quando si è tornati È successo qualcosa Di paranormale È entrata Una folata di ventro Dentro Dentro i Cosi dell'aria Dei condotti dell'aria Di casa mia E dal tetto Si è staccato Un bullone Che ci fa C'è un bullone Nel tetto Non lo so Ma si è aperto Un buco sul tetto C'è roba fuori di testa Quindi anche questo Paranormale Però insomma In sostanza Abbiamo fatto un delirio Quindi Era tutto Era tutto molto teatrale Sta pioggia Sentivo un delirio Figo Figo Comunque bestiacce Dai devo chiudere qua Che devo scappare Devo portare fuori i cani Ci vediamo domani alle 21.30 Grazie mille Per aver passato con me Questa bellissima serata insieme Buona Pasquetta Riprendetevi Domani si ritorna a vivere Non ho voglia Domani forse Minecraft Non mi ricordo più Siateci alle 21.30 Come al solito E aspettatevi Incredibile news E soprattutto questa serata Dove insieme Vivremo le avventure Dei ghost fuckers Grazie per tutto Bestiacce È stato un piacere Buonanotte Ci vediamo domani Ciao